a si io ho inizio si si aspetta cazzo non tutto non ti devi calare non ti devi calare bing a me tipo una giungla o forse come la pianura minchia fottuto sono fottuto neanche il tempo aperta non ce l'ha uh altre canne no minchia oh cazzo la terra no freddo è una cosa bella vai sabbia via minchia non si vede la minchia e la pollo ve lo sai prendiamoci questo i 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 e i i i . Meno more che no. Oh che cozzo di l'incontro di me. Stasera si mangia. Stasera si mangia. Stasera si mangia. Tanto si mangia così. Ok, la video è un modello, il FPS è il ventico. Stasera si mangia. Stasera si mangia. Ok, sta concerne anche a livello. Stasera si mangia. Parcours. Ok. Sori cazzo. Sole, minchia. Sto leggando come un porco. Stasera. Sto scherzando tutto il PESAT. Sta sbagliando secondo te. Andiamo cittadina. Merda. Comunque. Ragazzi... E' arrivato il momento di fare un secondo episodio. quindi per me lo qui e il tervice